Siamo che si tratta di una proposta che il Comune fa avendo avuto mandato dall'assessorato regionale di provvedere alla razionalizzazione e dimensionamento delle istituzioni scolastiche nel Comune di Agrigento e quindi nelle scuole di propria competenza. Noi oggi abbiamo a oggi 12 istituzioni scolastiche, una scuola media, 5 circoli, quindi 5 scuole elementari e 6 istituti comprensivi. Secondo le leggi attuali dovrebbero tutti diventare istituti comprensivi ovvero avere tutte queste istituzioni, un numero di alunni superiori a 500 e tutti e tre gli ordini di scolarità quindi la scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media. Per fare questo abbiamo provveduto a un'aggregazione dei plessi che insistono sulla città seguendo il criterio alleare omogene, ovvero dei quartieri. Abbiamo voluto dimostrare alla cittadinanza come l'amministrazione Zambuto sia perfettamente vicina alle esigenze della cittadinanza tutta, rispondendo a principi fondamentali della buona amministrazione come quelli dell'efficienza, l'efficacia e dell'economicità. Quindi nell'efficienza, nel recepimento delle direttive imposte a livello nazionale e regionale nella razionalizzazione degli istituti scolastici, efficacia nell'evitare un bagno di sangue di spostamento di alunni, docenti e presidi, quindi dirigenti scolastici costretti a vagare a girovagare per l'intero territorio comunale ed economicità nella razionalizzazione delle spese in favore delle casse comunali. La proposta dell'aggiunta comunale su un nuovo dimensionamento delle istituzioni scolastiche che hanno una diretta dipendenza con il comune di Agrigento è volta a una razionalizzazione. Se noi consideriamo che oggi interveniamo su una popolazione studentesca, prevalentemente per quanto ci riguarda, fatta di bambini, di circa 6.000 bambini, quindi parliamo di un'utenza complessiva se consideriamo anche gli insegnanti e consideriamo i genitori di una popolazione di circa 20.000 persone. Siamo andati a intervenire cercando di razionalizzare rispetto a un sistema che prevedeva fino a oggi 5 circoli, una scuola media e 6 istituti comprensivi. Oggi portiamo tutto a un sistema di dimensionamento che prevederà 9 istituti comprensivi. Tutto questo al fine di dare autonomia, razionalizzazione e un migliore servizio complessivo alla popolazione studentesca.